Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi, siamo tornati su Minecraft It a ottava stagione per un nuovo video Allora ragazzuoli, questa prima parte l'ho registrata già un'altra volta perché non mi hai registrato un cazzo di suoni Dato che ho fatto alcune cose, avevo cambiato alcune porte perché dovevo sistemare... Vabbè insomma, cazzi miei, li hai massi, dovevo sistemare alcune cose del computer Ho cambiato le porte, mi sei la sfasata delle preferenze e non mi ha registrato un cazzo Va bene, va bene, va bene Detto questo ragazzuoli, che cosa andiamo a fare oggi? Allora, prima di tutto voglio farvi vedere che è una cosa figa Ho messo un sacco di inquadrature nuove con le webcam, ho messo tre webcam che puntano, sì ovviamente tutte qua Una la devo sistemare bene perché ce l'ho lì ma effettivamente non sarebbe di livello l'inquadratura perché non dice niente, cioè non è bella Ma ce n'ho una fighissima che è questa qua Pam, eccola qua signori È interessante, è carina queste inquadrature, mi piace L'unico problema è che effettivamente si posso capire Non ci facciamo un cazzo con inquadrature così almeno perché io devo guardare sempre su Con i vlog si può utilizzare, si vede tutto il letto sfatto, ma mi sono alzato da poco, passate me la vi prego È carina, mi piace queste inquadrature, non è male, è figa un botto secondo me La webcam non è di grande qualità quindi un po' sfasano i colori Però vedo da lì che si vede, non è malissimo Magari la potremmo utilizzare per qualche live Comunque direi di tornare subito a questa inquadratura qua In modo tale così da vederci poi proprio bene frontale E di andare a fare e iniziare col progetto di oggi Vi dico già che mezzo scavo l'ho fatto perché ovviamente avevo registrato alcune clip Comunque di cosa stiamo parlando? Come ben sapete è uscita la 1.13 e con l'uscita della nuova versione sono tornati alcuni bug Che io adoro, tra cui quello della duplicazione delle rail Infatti oggi andremo proprio ad utilizzare questo, a creare, andare a fare questa farmina di rail Non ho cazzo di cosa, porca troia Sì lo so raga, qui c'è un po' di delirio, porca miseria Perché ha scavato, come vi dicevo prima Questo li mettiamo qua, già over up, tutto fu, mu, ba, op up Allora, 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 questo lo mettiamo qua Questi come al solito non so dove metterli perché in piano si scorda sempre il sistema di Ma mo' lo facciamo, cazzo, vedrai Vedrai, 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 vedrai Allora, questo ce lo prendiamo Che urto di no, terribile, che urto di nervi Prendi questo, prendi, prendi, prendi il legno Vai free, vai, 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 vai Crafta, 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 corri, corri, se, se, perché non funziona Perché funziona, la redstone, corri, 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 se, se Crafta tutto, crafta tutto, pistoni, se, se Quanti ne fai uno, vai, va bene, vai, slime, 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 vai Prendi una cosa di slime Crafta tutto, vai, 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 ok, perfetto Ok, raga, le cose che dovevamo prendere le abbiamo prese Chi lo sa se funzionerà, appunto, non lo ho provato in verità Però, dato che, eh, quel canale in cui l'ho visto è un canale a cui Insomma, è bravo un ragazzo che ci sta dietro Per niente, per niente, tosto, non è in canale italiano Penso, sicuramente in lingua inglese Non so se sia americano o meno, però, vediamo Questa la buttiamo giù di parete Mica per niente, ma perché mi rimane più comodo fare i conti pari Dato che è largo uno, poi, vabbè, lo possiamo allargare Però, sti cazzi, per il momento Facciamo che sia largo una Ciao, oh, fra, tu, tu, fu, mumba, oh, bab No, vabbè, raga, ormai la fissazione con Gemitides è a livelli cosmici Comunque, facciamo così, facciamoci degli stone brick Tac, tac Qui pure dobbiamo togliere Questi cavoli della buca che c'è là Ok Wait a moment, please Non posso metterlo qua Madonna Devo alzarlo in un altro passo Ok, raga, ready Iniziamo con la realizzazione del progetto Tac E poi ci metti tac, tac No, ne metti soltanto uno, I think No, col cazzo, mi sono scordato una cosa, però Che odio profondo che provo per me stesso quando faccio queste cose Allora, questo mi serve di qua Quindi fai così, così E te lo butti sopra Ok, questo lo leo E certo, se non c'è il loop, come glielo do Comunque, linea di massima Così Poi noi che l'allarghiamo è un altro conto E siamo tutti belli d'accordo, però regala cosa figa È un'altra tac Tac, sti cazzi Ok Ci manca sopra l'observerines Dopo l'observerines Siamo carichi e pronti per partire Ha una powerhead, mi serve Che io potrò tranquillamente prendere da qua Andare a mettere qua Bipolare Con il sogno di volare Vado a prendere un observer e torno Raga, siamo in un mondo in creative E ma sono stato ingannato, non funziona Eh, guardate Che l'ho fatta in tutti Cioè A me buttarla in tutti i lati Per vedere davvero se Fosse qualcosa di Legato a questo Il fatto che non funzionasse Mi sono anche Ho messo gli slab Cioè, li ho messe di tutti i colori Non funziona, raga Non c'è verso La faccio anche in quest'altro lato Ma Cioè, vaffanculo, dai Che cazzo Sì! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Funziona! Oh my god! Cioè Solo in una direzione funziona Ma pensate voi Oh my god! Allora, in che direzione deve guardare? Verso est, ragazzuoli Oh my god! Bello, verso est A questo punto tagliamo il testa Ah, sì, facciamo Dico, tagliamo la testa al toro Vediamo se funziona anche In quest'altra direction Sbagliavo qualcosa Ma no, in verità Tutto uguale Cazzo mi sa Vabbè Ma sai che volare Poro, poro, poro Oh Ok, così No Per favore Ok Butti questo di qua Questo qua Vediamo un po' se funziona Ok Funziona anche in quest'altra direzione Quindi, praticamente, siamo stati sfigatissimi A farelo Nelle uniche due direzioni In cui non funzionava Ok, raga Eccoci di nuovo qua Ah, iniziamo a togliere il toro Lei ha tutto Perché tanto abbiamo capito Non funziona Questa che direzione era? Infatti era verso est Vabbè L'odio profondo per la vita Delle volte che non mi funziona mai un cazzo Allora Con calma Buoni State 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 Pani Allora Con calma Give me slab Some slab Anzi Epp Ci butti dentro questo A questo punto Mi dai questo Perché io potrò andare a mettere sopra una leva Molto bene Dopodiché La power ho anche Molto bene A questo punto fai così 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 E col cazzo Non mi ricordo Raga Mannaggia Così Così No, facciamolo al contrario Così Così No, così E Così A questo punto ci butti sopra Questo Ci butti sopra Questo E ci butti L'observer Ok Mi serve una scala Ovviamente per buttarsi per l'observer Ma non penso sia questo il problema Dato che Tranquillamente Possiamo fare una cosina del genere Anche magari spostarci più in qua Per essere convinti Di buttarlo bene L'observer Secondo me non funziona E infatti Non funziona sto cazzo Ma porca miseria Perché E voilà signori Le geste son fe Completata la farm Allora Così funziona Vediamo Vediamo Boni 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 Che questa Si farmano Ma si farmicchiano Vediamo quest'altra Se Se mi da lo sprint Lo stint Quello Figo 1-1 Punto esclamativo Cioè se io inverto Mi fai farmare davvero pesante o no? Cioè se mi fai farmare pesante Vuol dire Sta farmare è unica Che cazzo che farmo pesante? Così non farmo pesante Perché non mi da la possibilità Di farmare quello che voglio Io In questo coso così Eh cavolo Io devo poter farmare Le altre tipi di rail Vediamo Eh vediamo Vediamo Beh già comunque che funziona A metà È buono Devo andare a verificare Funge Raga Punto Ok perfetto È finito È finita È finita Il cielo è azzurro Sopra Berlino Insomma Raga Farm è fatto Fuzioso Un po' brutto A me Effettivamente Non è proprio bellissimo Il posto che io ho scelto Ma Opinabile Sti cazzi Ah ragazzi Abbiamo a fare un derail Ora So che sarà un po' complicata Qui alcune cose Come le mettiamo Decorazioni a parte La farm è pronta Funziona Siamo tutti felici e contenti Non servirà a fare Grandi modifiche In verità Solo sistemare Guardate Girare questo Un attimo Metterlo tipo Così No Non so Ci sta Aspetta Un attimo Fatemi capire un po' Come possiamo fare Una cosa figa Tipo Questo sta così Questo lo voglio mettere così Questo così E no Ma questo lo mettere così Bravo Esatto Una cosina del genere Facciamo In modo tale Da chiudere Perfettamente Il tutto Tipo così Bravissimi Bravo proprio L'hai capita al volo L'hai capita al volo Qui ci mettiamo Un altro rinforzino Con gli stone brick Perché se no Non mi sfasa Un po' Non mi piace tanto Ok Tac E a questo punto Magari anche sopra Un architett Tutto stone brick Qua facciamo una parere Bella rinforzata Dici che cazzo c'è qua dentro Beh poi te lo faccio sapere Che cosa c'è qua dentro Una delle migliori farm Ci mettiamo due porte E la farm è conclusa Ok Ni però Ni Ni Va bene ragazzuoli Penso che ci potremmo Tranquillamente essere Ho messo anche gli item frame Con tutte le rail L'idea Cioè La farm pure funziona bene Funziona bene Anche la farm Spettacolarmente direi Perché ci da Ci da uno sprint extra Ci da la possibilità Di farmare davvero roba Ci da la possibilità Di farmare per bene Insomma Parliamo e parliamo Vogliamo parlare Vogliamo parlare Allora Due due Va bene Mettiamo due centrali Che cavolo mi frega Ne voglio mettere due Anche qua sopra In modo tale Che sono sicuro E qua non mi spawna nessuno La farm c'è Funziona Siamo tutti felici e contenti Non si mette qua E viene farm Va bene Ok ragazzuoli Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo Per lasciare un mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se non vi è fatto Di condividere il video Per farmi riuscire a persone Mi raccomando Passate in tutti I link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti